Ciao a tutti, sono Susy Dolci, benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo una ciambella veloce, facile e gustosa con solo i quattro ingredienti. Ci servirà farina, uova, zucchero e delle belle prugne. Iniziamo a rompere le uova, versiamo lo zucchero e sbattiamo per 5-7 minuti, devono avvitare le belle spumose. Quando l'impasto è bello spumoso iniziamo a mettere la farina setacciata un po' alla volta e mescoliamo dal basso verso l'alto. Ho tagliato metà delle prugne a tocchetti e li verso dentro l'impasto e li do una mescolata. Le altre le ho tagliate a spicchi. Ho versato l'impasto in una tortiera a ciambella ingurata e infarinata. Adesso metto le prugne tagliate a spicchietti. Ora inforniamo a 165 gradi per 45 minuti circa. Questa è la mia ciambella sfornata. Adesso do una piccola spolverata di zucchero a velo e tagliamo una fetta per vedere il suo interno. Ecco qua, che meraviglia! Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, condividete le mie ricette, se le fate mandatemi le foto su Instagram, sono Susi Dolci. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perderti i nuovi video. Ciao a tutti e alla prossima videoricetta!